8.000 di ante, ante 1 1 2 2 2 2 3 5 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 11 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 23 24 25 Con i parocchi o i cavalli Ti giuro che non l'ho visto Cazzo è un creeper eh Ti giuro che non l'ho visto Ripara tutto il danno Ripara tutto le ceste Raga un pezzo di reddose L'ho presa to La metto dentro la cesta Dentro la crafting Porca cotogna Chi l'ha visto il creeper Ho fatto la pump Ora mi serve del vetro Facciamo dei tank Tac 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 abbiamo fatto dei tank Il tank con la pump Diventa una pump tank Eccola qua abbiamo la pump Ora facciamo altri tank Che potrebbero servire più avanti poc'anzi Bam ne vengono bene 11 E facciamo una bella cosa Una bella cosa Ci serve del ferro Ok Della reddstone Della cobblestone Cobblestone Del legno Cobblestone Eccola qua Facciamo 4 Piston Pistoni Ok Perfetto Poi ti serve cos'altro Aspetta che sto finendo Di mettere a posto l'inventario Dovremmo essere a cavallo Con i pesci lessi Dovremmo Ah ragazzi Una cosa importante Venite qui La divisione dei beni Ah è vero Allora Allora Seguendo l'articolo 105 No scherzo ragazzi Seguendo il commento Più votato da voi 266 pollici in su È di Alexbo 1820 Complimenti Bravo 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 Alex Rosso Luke Rosso Luke Perché Mario Ha la maglietta rossa Giallo chip Perché ha il vestito giallo Per cui giallo chip Grazie Mia E arancione E Peppo Perché ha una carota Ma non Non vorrei sapere Dove ce l'hai la carota Però va bene Per quello cammino tesi Ok Dai Allora Ficca roba Abbiamo le pump E le tank Guarda quanta roba No 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 Ragazzi Ok Io sono a cavallo Con i pesci lessi Va Bene Allora Abbiamo tutto Possiamo andarcele Mi servono Raga Ehi Possiamo andarcene Andiamo Andiamo Unico problema Dobbiamo trovare Io li avevo segnati Waypoint Casa Lava Petrolio Petrolio Lo metto on Vai Ed è proprio di là Venite con me 700 metri Non è lontano Vai Quanto 700 metri Ah Dobbiamo andare Non è niente Io direi di farci Tre letti e portarceli Che ormai dormiamo fuori oggi Uh Ce sta Ce sta Ce sta tutto Allora Aspettate Prendo un letto Lo copio Copialo Vai 144 Mi raccomando Vai tenete Ok Thank you Very much Vai prendilo tu E un po' Quanto energia c'è Eeeh Undicimila Me la chiappo tutta E chiappola Guarda come sale Anzi lo lascio qua caricare Vai Vediamo di qua Intanto sta finito Eeeh Abbiamo fatto la Eternal Sì Vai La vado a imparare La vado a insegnare Ok Ok bitch Perfetto Questo qua alla fine è un diamante Per cui Diamoci Andiamo al petrolio Vai Andiamo Andiamo nel petrolio Seguite messo Sì sì Ragazzi forse è un po' Troppo lontano Quello mi dicono Della regia Oh Una cosa importante ragazzi Se sentite di sottofondo Rumori molesti È perché abbiamo il condizionatore acceso Ci sono 85 gradi all'ombra Per cui Vai Ragazzi L'uomo c'è dell'acqua Cioè Magari in acqua troviamo il petrolio Mettiamo la nostra cara amica Pamp Pamp Tac Abbiamo fatto una cacata Che cosa? Eh non ho fatto i tubi Andiamo a casa Oh porca Codogna Andiamo Oh porca Codogna Namos La porta Chi chiude la porta? Vado io Grazie Molto gentile lei Lei è davvero un cuore d'oro Se volete state lì Faccio i tubi e arrivo eh Vai 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 Andiamo Io spero non si senta il condizionatore di sottofondo Spero Allora abbiamo cactus Ma state no lo sai Se non abbiamo cactus siamo della merda Oh io sono rimasto qua del coso Devi fare i tubi liquidi Eh raga non abbiamo cactus Oh porca Codogna Ma io ne avevo trovato i cactus No 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 abbiamo abbiamo il deserto vicino Aspetta aspetta Ma era prima che resettassimo il server Mi sa Eh mi sa tanto di silu eh Come abbiamo il deserto vicino Andiamo a vedere se loro hanno cactus Bravo Bravo Te lo stavo dicendo Se andiamo da Da Perfetto Non c'è altri metodi Non hanno un cactus Neanche loro Non hanno un cactus No Peppo non toccare le cose loro Non iniziare a fare il pirva Un cactus Uno solo Non hanno un cactus Non hanno un cactus Eh raga allora bisogna andare alla ricerca del cactus Per forza Oh porca Codogna Molliamo il progetto pump E andiamo alla ricerca del cactus Vai Allora usciamo No mancano due briciole Ragazzi sotto i video di Peppo Di Che è le danni d'Arkim Peppo vi ha fottuto La Peppo Non è vero Non è vero Non è vero Mi raccomando Peppo Fotte il grano Arrivando Anzi no Peppo fa sempre danni Peppo non si fa mai i cazzi suoi Ah non è troppo Bravo Bravo Ha fatto pure danni Peppo continua a fare danni Bravo Bravo Fai danni Ma non mi rompa i semi No Oh raga le mani nel culo Peppo Non se le sa mai mettere Ma comunque No seriamente Non c'erano Ma ti ho detto Non toccare le cose loro Peggio dei bambini Scusa Scusa il cazzo Schiaffo sulla mano Vai Ma ti la taglio la mano Oh Porca miseria Che l'avete visto Che gli avevo piantato di più Prima di non Ma dov'è casa vostra Eh Ma Eddio Niente Solo col cactus Ragazzi Tutti insieme Ah porca No dividiamoci Eh sì Allora Tutti qua Ok Arrivo Tutti qua Sì Eccomi qua Allora io ero dritto di là Mettiamoci le spalle Io dritto di là Ok io di là Aspetta No no Non mi interessa Io vado di qua Chip va di qua E il pepe E il pepe va di qua Va bene Ok Al tre partiamo Vai Avete letto Eh sì Uno Vado Uno Due Tre Buon viaggio Ciao ragazzi Oh sempre dritto Controllo i vostri video Va bene Sempre dritto Il primo che trova il deserto Prende un cactus E ci torniamo a casa Va bene Per cui sempre dritto Ok Sempre dritto Ma io c'ho il mare Vai sempre dritto Ti fai una barca Sai giocare a Minecraft Prendi la legna Fai la crafting table Fai una barca Vai in acqua C'è la donna acqua da solo Porca loggia Io c'ho la montagna La scali Sai giocare a Minecraft Con la barra spaziatrice salti Col tasto sinistro planti Planti Col tasto destro planti E scali la montagna Qua c'è un altro coso Di Redstone Come si chiama Di pompa È notte Allora io devo andare dritto Dormite Se mi arriva un picmeo E muoio Io vi killo dalla serie Oh qua c'è il coso Dormite Aspetta Sto in mezzo Sto in mezzo all'oceano io Vabbè Sto in mezzo all'oceano Avete mai pensato Non so Di andare a giocare Non lo so Ok buonanotte Disney online Non lo so Barbie Barbie mondo privato Ok Oh Vado sempre dritto io Non lo so Buongiorno 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 Salve Buongiorno Mi chiamai io C'ho sempre Sempre mare Avete trovato il deserto Da qua Come è sparito il letto Avete trovato il deserto Sto a pia la neve io Sto a pia le palle qua Io l'altro giorno intitolai un video I due imbecilli che imbellano Questo episodio è come lo intitolo I due deficienti che deficitano Guarda che bella pianura qua Devi cercare il deserto Eh ho capito Però è bella come pianura Bella Il deserto Deserto Trovato Non lo so Allora Io sto Ho bypassato la prima montagna Oh i fiori quelli viola Nice Questi sono importantissimi Ho trovato il coso Ho trovato lo struzzo Lo struzzo Eh l'inchiostro nero serve Pirletti Eh sì 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 E Peppo non c'ha cibo Ah logicamente non abbiamo la logistic pipe E te pareva E che non c'era E che palle Però abbiamo la tube Io ho trovato una spiaggia Vale come che serve Non abbiamo la logistic pipe Ma va fanciulo Ma va fanciulo Ragazzi sapete che dovremmo aggiungere La logistic pipe Perché Abbiamo la E2 Ma senza logistic Facciamo una case Ah ok E non me ne era accorto Che non c'era nel pacchetto Bella roba Bisogna aggiungerla Vabbè Chiamiamo Raffaello 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 Logistic pipe Adesso Lavora Intanto ragazzi Ne approfittiamo per ringraziare Gamehosting Per l'offritura dei server Che come notate Nulla lagga E intanto ragazzi Io ho trovato Indovinate 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 Il server Il cazzo proprio Io ho trovato Una pozza di petrolio Io ti amo Ti amo Ti amo Io ho trovato una pozza d'acqua Io ho trovato L'oceano come chip Trovato una pozza d'acqua Eh super Io pure Sperate che faccio Ti do per una barca Per forza Faccio alla chip Faccio alla chip Bello Vai Faccio alla chip Faccio alla chip Mi serve un'albero Mi serve un'albero Mi serve un'albero Guarda Cavolo F7 Andiamo Eh sì Navica Se mi lasci stare Magari riesco anche ad andare Sono premuto Vado in acqua Per mare e monti Mi chiamarono Mosè Colui che è Colui che è Colui che era Colui che sarà Io prendo un po' di legna Mi facevo la barchetta E vado in giù Va Colui che mise incinta Tutte le donne Dividendo le acque Che cazzo c'è Allora Ho trovato un castello È un cilindro Perché? Una vagina Ok Una montagna Che cos'è? Non so Si costruisce Mano a mano Che vado avanti Che bella sta montagna Però è bella La cascata Dovamo fare A casa L'acqua che casca È una figa Ragazzi Ho una bella notizia Trovato il deserto No Ho trovato una spiaggia Sembrava un deserto Sembrava un deserto Che poi è una spiaggia Questo è un episodio di merda Sarà moscio Ma non ce ne fotte Potremmo tagliare tutta questa parte? Potremmo anche Ma io non taglio niente Bravissimo Hashtag io non taglio nulla Hashtag non Non taglio nulla Per fare questo video Sto consumando corrente di condizionatore Chi me lo ripaga a me? Scusatemi Per cui non taglio nulla Faccio il money grabber In questo video Aia Faccio il video per i soldi Buonasera banconote Come state? Eh? Tu eurino Che cos'hai? Hai neurisma Eh? Ti metti spiaggia qua Oh la zucca ho trovato Ragazzi Eh te la metti tutta Ah no La zucca è utile Ho trovato un vulcano gigante Io ho trovato la foresta qua La foresta mazzotta Io sono sull'Atlantide C'è la città sott'acqua Oh c'è la città sott'acqua C'è la città sott'acqua Oh my god Oh ma neanche abbiamo trovato per esempio un coso eh Vero? Un che? Un villaggio Ma è vero? Neanche quello? Carote, patate Nella 125 non esistevano Comunque Attenzione Attenzione Sabbia Attenzione Sabbia Attenzione Deserto? Dai Deserto? No Ma nella 125 esistiva il deserto? Sì Esistiva No nientra una spiaggia di me Attenzione Tanta sabbia Invece è una spiaggia Sulla lunga Con la WP Che pizza Dai sto deserto però Oh io faccio 8 episodi a cercare il deserto adesso Sicuramente Ma se chiudete gli occhi troppo un attimo un coso di cactus Quella che attiva Oh guarda Ho trovato accidentemente un cactus Non so neanche se siamo qui Dai ragazzi dai ragazzi Ma la cosa bella Non è il deserto La cosa bella che io sono A 1200 metri da casa C'è capisci? Il problema è tornare indietro dopo Ah solo lui Buona fortuna Io sono a 1100 Senti io uso la creative Prendo un pezzo di cobbl Di coso di chi ci serve Di cobbl E mi tipizzo a casa Posso? No Posso? Hashtag no Presenza strana Posso? Io non voglio dire Dove cavolo sto Posso? Posso? Posso muovermi qua Ok qui grazie a Dio posso muovermi Ragazzi ragazzi siamo nel villaggio Raccogliete tutto Ah io cactus ne prendo 200.000 C'è anche petrolio Mettete un punto di riferimento ondulante C'è la cesta? Lu sì C'è la cesta Guarda C'è 5 siriana 2 panini 2 panini 2 split Bella 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 E basta Vai Ma qua non c'era quello delle api no vero? Raga abbiamo la lava Abbiamo un secchio Ce l'ho io dietro Prendo la lava Peccato Io ce l'ho imparare la club is back Vai Vai Questi già parlavano 1 2 5 No Non Non traidevano Traidevano si dice Non fanno manco rumori C'è erano inutili Sì infatti ancora sì Vabbè oh Per cui i villaggi erano inutili Buono Ci possiamo andare ragazzi Torniamo a casa Ragazzi Che albero è? Non lo so Questo è l'albero della gomma Mi sembra Non lo so Non lo so È la rubberwood Sì La rubberwood Lo so io ho troppo alla gomma È quello figo Ci servirebbe L'alberello Però Lo vedremo in un prossimo episodio Ragazzi un bacione e un abbraccio Ci vediamo a casa Al prossimo video Ciao Un bacione Un abbraccio Ciao Mi raccomando Iscrivetevi Ah ragazzi Iscrivetevi nei commenti Secondo voi Chi è più pirla tra pepo e cipo Ciao Metteteci anche lì Ciao ciao